Attività della Guardia di Finanza posta in essere nella giornata di ieri nei comuni di Salerno, Capaccio Pestum ed Agropoli. I militari del nucleo di pulizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle, sotto la guida del tenente colonnello Claudio Molinari, hanno infatti operato, a partire dalla prima mattinata, delle perquisizioni finalizzate ad acquisire atti e documenti presso la sede della provincia di Salerno, Palazzo Sant'Agostino, il comune di Capaccio Pestum ed una sede di uno studio legale ad Agropoli. L'attività di recupero degli atti è stata svolta anche negli uffici di Franco Alfieri, presidente della provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Pestum. Controlli anche presso la sede dello studio legale nel centro di Agropoli, sempre riconducibile a Franco Alfieri, di professione avvocato. Le operazioni sono svolte su delega della Procura della Repubblica di Salerno ed hanno portato ad iscrivere sul registro degli indagati sei persone, tra cui lo stesso Franco Alfieri, un componente del suo staffo Andrea Campanire, la sorella del sindaco e due rappresentanti dell'azienda di pubblica illuminazione Derbit. L'accusa, secondo gli inquirenti, sarebbe quella di corruzione per atti contrari a quelli d'ufficio e turbata libertà degli incanti in merito a degli appalti che riguardano la pubblica illuminazione nei comuni di Capaccio Pestum e Battipaglia. In merito alle attività svolte dalla Guardia di Finanza di Salerno, su delega del locale Procura, il presidente della provincia e sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, ha comunque dichiarato di essere sereno rispetto ai controlli effettuati. «Cielo sereno non teme tempesta, esprimo piena fiducia nella magistratura e negli organi inquirenti, con la certezza che presto si farà chiarezza nell'interesse mio, degli enti che amministro e dei cittadini che ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia», dichiarato Alfieri. «Continuo il mio impegno come sindaco di Capaccio Pestum e presidente della provincia di Salerno, con la dedizione, la determinazione e la tenacia che da sempre mi appartengono e da sempre contraddistinguono il mio agire». Lo studio legale di Alfieri ad Agropoli fu perquisito anche nel maggio del 2019. In quel caso a muoversi fu la dia che si recò in quella circostanza anche nel comune di Agropoli per acquisire atti e documenti, nell'ambito di un'indagine su un presunto voto di scambio nella città del Fina, ai tempi in cui aveva guidato l'ente, ricordiamo per due mandati, dal 2007 al 2017, scaturito presumibilmente da esposti di privati cittadini. Accuse che non furono in alcun modo dimostrate, tanto che la direzione investigativa antimafia non dispose alcun seguito giudiziario in questo senso, né persone iscritte né il registro degli indagati. In quella circostanza erano presenti anche i vertici della stessa dia, rappresentati dal talento colonnello Giulio Pini e il sostituto procuratore dell'antimafia Vincenzo Montemurro, oltre ai carabinieri della compagnia di Agropoli. Una settimana prima c'era stata la perquisizione, sempre presso gli uffici di Palazzo di Città, nel Comune di Agropoli, operata dagli uomini della Questura di Salerno per acquisire atti relativi alla partecipata Agropoli Celento Servizi. In ogni caso, anche per quanto riguarda questa vicenda, ovviamente sussisse la presunzione di innocenza fino a definitivi gradi di giustizia come previsto dalla nostra Costituzione. Grazie. Grazie.